Il Martirreno continua a soffrire a causa dei troppi scarichi e anche quest'anno in numerosi chilometri di costa della campagna e della provincia di Salerno è stato apposto il divieto di balneazione. Sei sono i siti inquinati sul litorale Domizio-Flegreo, 27 liti interdetti alla balneazione a causa dell'eccesso di batteri e altri microorganismi nocivi alla salute umana, un sito off-limits e bagnanti a Ischia, 19 i siti interdetti nella provincia di Napoli. Davvero lungo invece l'elenco delle zone non balneabili della provincia di Salerno. Sulla scorta dei dati dell'ARPAC, la regione Campania ha tracciato una mappa delle zone interdette alla balneazione, per ragioni relative all'inquinamento e per altre ragioni non ascrivibili alla qualità dell'acqua. Tra i comuni della provincia di Salerno in cui è stato apposto il divieto di balneazione, la zona Vallone nel comune di Castellabate, la zona Foce Alento nel comune di Casalvelino, il Vallone San Macario nel comune di Pisciotta, la zona della spiaggia che si trova all'uscita del porto di Scario nel comune di San Giovanni Appiro, a Santa Marina la zona sottoposta a divieto è la foce Bussento, mentre a Cendole il divieto è stato apposto alla foce del fiume Lambro.